Nicola è in cattura. Questa è l'incazzatina? Non lo so se è una carpa, è partita strana. Questa è un gatto? Questa è piuttosto cattiva rispetto a una carpa. Poi ci sta che magari ha fatto la prima reazione. Dettagli che vedrai che se è slamo c'è ingivata che pigli, vai. Te la leva la simpatia. Voglio vedere la piega, signorina, tutta? Ma sì. E' ormai il collettore? Quante sega al nostro tester. Noi siamo più vero. C'è una bella schienina però, lavora bene. Non è perché l'ho fatta io, ma lavora in bene. Non per vantaggiarti, per... Bene, capito. Vieni bimbo, scusi. Lo zionico. E ci siamo. Opla, è andato. Allora, ricordatevi sempre di bagnare il materassino perché diventa una brace, diventa una griglia sotto il sole. Quindi è inutile che portate magari il materassino, poi lo lasciate sotto il sole e ci mettete la tarpa. Allora tanto vale che la mettiate piuttosto sull'erba. Eccola qua, bella dorata, con la sua bella pinnona. Eccola qua. Fotina veloce. Eccola qui. La bimbina. E se ne arriva. Ciao bimba. Andiamo a vedere la montatura velocemente. Allora, eravamo partiti con un metodo classico, però ne ho persi due e poi me ne volevo lasciare uno per continuare il tour. Allora, la montatura in questo caso è molto simile... Molto simile, molto simile metodo. Abbiamo una lenza madre del 18, un piccolo benzo sui 20 grammi, uno sgancio rapido, un finale sui 15 centimetri, dello 0,16 e il nostro righe multi innesco. L'amo naturalmente ha un 14 senza al diglione, al digliane. E da una pesca... L'innesco di mais? L'innesco dipende. Ho usato un po' di dumbbell, in questo caso ho usato il mais. Ho visto che sul mais rispetto alla dumbbell, essendo forse un po' più morbido, un po' più dolcino, vengono stimolati di più. Sul nostro metodo, sul nostro benzo, andiamo a mettere i nostri micro pellet specials Franz Vrani e funziona. Dai, rimettiamoci in pesca, vediamo se anche il floating riparte. Altro pesciotto per Nico. E ora stanno cominciando ad entrare un po' sulla ragazzi, quando poi entrano, soprattutto nella pesca a fondo, una volta che sono entrati, dopo diventa una cattura dietro l'altra. Non so la dimensione, ora magari vi faremo vedere ancora questo e poi nell'eventualità cominceremo a far vedere solo quelli un pochino più di taglia. Questa sembra bella arrabbiata. Anche perché non posso forzare più di tanto, dato che siamo con il 16, senza ardiglione non voglio rischiare tanto. Ora sembra forse un filino, ma un filino più grande delle altre. Buono. Cioè rispetto alle altre mie, non all'altra tua, forse un po' ecco come la tua magari. Allora avviciniamo alla sponda ragazzi, ci chiedete sempre di spiegare un pochino anche il lato tecnico della pescata. Cerchiamo di avvicinarla alla sponda con una trazione bassa, tenendo il vettino vicino all'acqua. Aspetta, se no non si nota. Proprio perché in questo modo il pinnuto, bello, si fa molto passarello il pinnuto. Il pinnuto non sente la superficie, non sentendo la superficie riusciamo con una minore resistenza, come vedete, ad avvicinare la sponda. Poi quando siamo vicini alla sponda, allora a questo punto alziamo per fargli prendere la boccata d'aria. Ogni tanto possiamo alzare per vedere la distanza alla quale stiamo eseguendo il nostro combattimento. E poi comincia una trazione fatta di, viene chiamato pompaggio, cioè si tira lentamente. Naturalmente con la frizione tarata a dovere o con l'antiritorno si risponde alle testate del pesce. E qualora ce lo chieda, ci diamo filo. Quando vediamo che va dalla parte, diciamo... Indesiderata. Indesiderata, cioè dalla stessa parte della sponda, della nostra vetta, allora ci vediamo dalla parte opposta. Proprio perché dobbiamo sfruttare appieno la canna da pesca e far sì che sia lei a lavorare il pesce. E non solamente il nostro braccio, o soprattutto, e cosa ancora peggiore, che sia solamente il filo a lavorare. Anche perché la sua elasticità è quella, non è che possiamo... Ora siamo più vicini alla sponda, cominciamo a alzare un pochino. Per vedere cosa abbiamo. Ed è ancora una carpettola. Ok, più o meno la taglia è quella lì. Eccola. Però belle indiavolate, non si arrendono facilmente. Là. Più su, più su, la mano. Più su. Andiamo. Ok. La leviamo dal guadino per fargli la fotina per Instagram. E naturalmente anche per prendere una ciaffata. Allora. Amo senza di noi, ragazzi. È una meraviglia. Eccola qui. Oh, ecco la bimba. Sì. Vai. Allora, questa carpettolina qui ha una ferita sulla bocca. Quindi approfittiamone. Vedete c'è una ferita qua? Sì. E noi la disinfettiamo. È brucia bimba, lo so, però. Vai. Ce la siamo disinfettata. E la portiamo verso la sponda per la libertà. È una taglia che per il figure, se pescate in maniera sportiva, con finali sottili, ami piccoli e attrezzi comunque di media potenza, è una taglia che sicuramente, soprattutto in questo periodo estivo dove sono indiavolate, sono veramente... Molto, molto divertenti. Quindi ora non ci resta che continuare la battuta di pesca, sperare nell'esemplare magari di taglia maggiore. Ora vi abbiamo fatto vedere le montature, le pasture, qualche cattura. Vediamo se esce fuori qualcosa di più grosso e continuiamo questa giornata. Ciao bimbi! Abbiamo fatto un cambiamentino tattico, tecnico, che anche oggi è stato il team Veronica, verrà a fare questo cambiamento tecnico? Ti stupirò, siamo sempre alla prima taglia. Oggi il team Nico spacca, vero? Eh, c'è un po' da fare, signorina acuta. Oggi non è la sua giornata, ci stupirà durante il turno? Oggi ha bisogno del team Nico, è un cervello. Eccola lì. Eh, bella però, dai. Dopo si fa vedere la variazione sul tema. Praticamente abbiamo sfruttato la stessa montatura per trasformarla in un qualcosa di simile ma di utilizzabile. Là, e la carpettina con la modifica tecnica. La pasturina alla fiagula. Eh, no. La pazienza, devi far prendere la boccatina. Eh, però belle incazzate, eh. Ho appena detto che eri collaborante. Sì, te l'ha detto lei che è collaborante, hai visto? Collabora sì, collaborega. Eh, fino a un fondo, eh. Guarda, guarda. Una C, eh. Suatta attento prima, perché non ti pare tagliare il filo con... Là. Ecco, e Veronica ne prende meno, ma quelle che prende le fa sentire, dai? Allora, io ormai sono diventato... Telecamera, Guadino, ragazzi. Ha messo storto. E manca l'acqua, dovresti prendere un pochino d'acqua. Guarda, ti voglio vedere. Ecco, ti pareva che prendesse una telecamera. Guarda, devi prendere anche qui. Ragazzi, vado a recuperare un po' d'acqua. Meglio farle veloci, le foto era che tranquilla. E ce l'abbiamo, ce l'abbiamo, vai vai. Un paio di foto ce l'abbiamo. La rimettiamo nel guadino. E gli andiamo a ridare la libertà. E poi c'è da spengere la GoPro che ormai ormai ti ascolta solo te, quindi. GoPro, resta video. Appunto. GoPro, spengiti. No, non si è spenta. Eccoci qua. Ed è il momento della libertà anche per lei. La. E se ne arriva. Ci faccia vedere se ne arriva. GoPro, resta video. L'hai già restato il video. GoPro, spengiti. Sì. Ah, fatta ti ha ascoltato. Sì, d'arretta. Mamma mia. Mi ci faccia vedere la modifica che non ha fatto lei alla montatura. Allora la spieghi, scusi. Vabbè, venga. Allora, abbiamo visto che il floating lo stava prendendo come sperato. Quindi abbiamo semplicemente lasciato di per sé quella che era la montatura del floating. e abbiamo semplicemente sostituito il floating con una piccola gabbiettina molto leggera, anche perché bene o male ci siamo vicini, una gabbiettina 25 grammi e sempre comunque il nostro finale lungo. Quindi invece del floating abbiamo messo la gabbietta. Sì. Siamo spostati dalla superficie al fondo. Semplice. Alle prossime catture. È una brutta persona. Non è vero. Perché ha preso una carpa interessante e faceva tutto, no, no, è piccolina, no. E poi invece... È piccina. No, vabbè, però dai, su perché ce l'ha, da che bella carpa. Quindi io una fotina gliela farei per Instagram. La slamiamo, gli facciamo una fotina e poi gli diamo la libertà. E in cattura, attenzione, l'acuto! Subito, così, di violenza, in risposta. Mattia, attenzione! Io intanto invece vi guardo. Io ci sono. Ci sei. Ci sei meglio, facci o esserci? Faci. Faci. Vai, ci siamo. Questa è pronta e va per la libertà. Intanto l'acuto. Che ci racconta, signorina acuto, sotto l'ombrelluto? Insomma. Insomma è piccolina. Tira. Tira, che sarà drogata. Aspetta, eh. Patuncia. Vai. Vai piccolina. Piccolina. E linea. La portiamo a guarina, ragazzi. Alla fine, via che al lì. È. E qui qui. È. Qui ao la parla. È. 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 Grazie a tutti.